Hi guys! Allora, sono qui a Pomigliano, oggi sono a Pomigliano, nonostante siamo in pieno autunno, ma va ancora molto caldo. E allora nulla, insomma sono sempre vantato di avere, ci siamo vantati, perché noi sono solo clienti miei, sono clienti della gargiora aspirazione, di avere dei clienti di altissimo profilo. Tranne qualcuno, insomma è mezzo. Ancora oggi, nel 2024-2025, ancora a dirti, no perché poi mi ha chiamato a Guaglione. Ma chi è sta a Guaglione? A Guaglione si riferiscono al nostro ingegnere. Sto guardando, quello è un ingegnere. Ho parlato con un chile che risponde in dall'ufficio. Chi è un architetto? No, poi mi è mandata uno così a parlare, così a dire. Ma dai, il è un avvocato. Cioè ragazzi, veramente un po' di rispetto, un po' di educazione, un po' di... Soprattutto nel caso della donna, di Silvia, bastiamo posto questo maschilismo che veramente risale un po' all'età della pietra, e neanche così smarcato.